che lavorano in fondo che si vedono nei campi non credo che abbia nulla da aggiungere io sei con voi PANDREAS qui è sempre chiuso nel senso non c'è mai nessuno ok chiesa l'ostro bello oh che meraviglia adesso l'abbazia è fraddicio e qui non c'è una goccia d'acqua il resto dell'abbazia addirittura meno male che l'abbate ha fatto sostituire a otto il tetto dello scrittorio e della biblioteca mese scorso cioè già queste qui ci tengono tanto i libri te ne immagini si allagasse tutto con il chi calefattorio hai sentito questo termine una stanza comune dei monasteri adibita riscaldamento il calefattorio se non è poi addirittura pergamena non so se è pergamena ma comunque è una carta sicuramente non come la intendiamo oggi secondo me e quindi comunque l'umidità non è la cosa migliore invece di esultare della nostra fortuna dovreste pensare vostri fratelli e sorelle e pregare per la loro salute e sicurezza la lungimiranza dell'abbate ha salvato molto il nostro lavoro e ha protetto il contenuto della biblioteca la città non se l'è cavata altrettanto bene sono certo che si riprenderanno oltretutto noi siamo anche in collina diciamo e se anche non dovessero farcela non mi interesserebbe che bravo fratello guy il tuo cuore è più duro della pietra di questo pavimento e ecco il vecchio monico scontroso ma dov'è quello simpatico? morto e sepolto si è un gran cristiano il nostro balordo fratello Piero non l'avete ancora visto oggi? sarà successo qualcosa a lui? si prima che rivesse fratello Guy fratello Piero è andato a parlare con l'abbate poco fa che cosa? perché Mattie suona la campana? non può essere già la terza spero che si fermi presti presto una tale cacofonia è un assalto alle mie fragili orecchie è sordo però con l'età non si ferma questo significa che siamo convocati nella sana capitolare se c'è qualcosa io dammi la forza di sopportare la pioggia sono 50 piedi di distanza vecchio sopravviverai io dammi la forza di sopportare questo balordo cammina con le dita così noi non siamo previsti si ferma ancora cosa sta succedendo? non può essere a causa della tempesta e poi è tornato appunto sotto c'hanno i cappucci che si lamentano in conto dovessero stare delle ore sotto l'acqua ma meglio andare a vedere di cosa si tratta iai iai cosa è successo vediamo chi è morto? chi è morto? aspetta 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 ah no questa è la lente qui non c'è niente qui ancora non c'è niente ecco cosa serviva la reception stanno dando fuoco alla segretaria riscalda bene la segretaria sembrava un urlo veniva da chiostro chiesa dormitorio passiamo di qua se veniva dalla sala capitolare in fondo al corridoio guarda il corridoio è successo qualcosa di terribile maestro Andreas ok fondo al corridoio che stavamo percorrendo perché non quello perpendicolare dovremmo rimanere in silenzio questa musica qua mi fa venire in mente come è che si chiama poi gioco strategico con i vichinghi che alla fine non sono mai riuscito a finire le avevo fatte tutte e tre ma l'ultimo mancava non stavo bene quindi non sono riuscito a finirlo per favore padre dov'è fratello Florian fatelo venire in fretta questo è Piero silenzio fratello i due capo rioni sono vivi Lorenz Lorenz come cavolo si chiama ho un vuoto di memoria un vuoto simile prego fratello Florian prega fratello no prego prego che è lieto di avanzare ok insomma non abbiamo fatto tempo è il barone il barone non abbiamo fatto tempo di parlare con lui mi spiace padre non c'è nulla che io posso fare è morto ammesso che si poteva parlare con lui è vero che non ci vede la tizia urla quella con lei che non vede Sor Margaret calmati perlomeno è mica lei for certude per favore riporta Sor Margaret in giardino sì madre Cecilia se la deve accompagnare può essere Dio ci protegga il barone era amico del principe vesco di Frisinga basta adesso mette sotto sopra la chiesa il monastero perché il principe vesco lo preoccupa così tanto ha detto alta voce questa pazzia è insolita sotto diversi aspetti la sua sola esistenza offende alcuni membri della chiesa ah sì siamo abbastanza lontani a Roma e Magonza ma cos'è Magonza situata sul fiume Reno Magonza è la sede dell'arcivesco locale elettore del sacro romano impero e primas germiniae ossia il vicario del papa nord delle alpi l'ho già visto forse Floriano pensi di riuscire a far sparire il corpo sparire erabate ma che cosa dite metti in discussione i miei ordini perché perdi tempo prezioso beh lui dice siamo tutti qua sappiamo solo noi aspetta un secondo vuoi forse vedere vuoi forse vedere soldati del principe vescovo marciare sul nostro monastero e scacciare dalla nostra casa i tuoi fratelli e le tue sorelle e tutte quelle macchine di inchiostro è perché è agitato perché è come se l'avesse scritto ma tutto agitato io ci protegga e poi parlano nella loro lingue basta silenzio calmatevi tutti quanti forse viene mia nipote sto cercando di parlare di vedere se viene mia nipote corri 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 ma quant'è grossa Cecilia eccolo qua ciao mio mio nipote Diego è appena avvenuto un omicidio in un monastero padre abate il servo del barone Rothvogel sta già organizzando la partenza la moglie del barone arriverà entro poche ore non è il momento di prendere decisioni avventate sì ma tra l'altro appunto questo qua vuole tenere nascosto ste omicidio quando comunque non è che dici solo loro sapevano della presenza appunto sta arrivando la moglie del barone c'è c'è l'altro lo stalliere come cavolo che si chiama sì sì avete ragione perdonatemi eh lì di scherzo c'ha già 16 anni mio nipote a me sa ma ieri quando sono nati cosa faremo allora non so guarda te tu puoi anche suicidarti così per non subire l'irade dobbiamo inviare subito l'uomo del barone alla corte del principe vescovo di Frising ma che hai sentito il tuono giusto madre Sicilia stando a quanto aveva detto il barone l'arcidiacono del principe vescovo è a Innsbruck per la dieta imperiale che come sappiamo è l'incontro di quelli che comandano Diego è appena venuto un omicidio importante poi ci siamo alla quarta live più o meno cos'è ottavo episodio più o meno o di più forse di più ancora meglio agire rapidamente mentre attacere ogni voce sconveniente a vostro a nostro riguardo considerato la levatura del barone l'arcidiacono si affretterà senza dubbio a raggiungere l'abazia per indagare dovremo cooperare senza riserva con lui e pregare per una rapida risoluzione sì sì va bene grazie madre Sicilia ciao eh testa leader vai fratello Vojislav per favore rinchiudi rinchiudi fratello Piero in cantina fino all'arrivo del delegato del principe vescovo perché rinchiudi poverino e cosa fratello Piero e perché è assurdo poi padre Garnovi imploro di ripensarci non dire nulla non diciamo mai nulla ma è assurdo ma poi perché è stato il primo a vederlo perché secondo te perché Matteo perché lo vuole rinchiudere questo povero vecchio capo espiratorio ma no se lo vuole rinchiudere perché lo vuole anche nascondere no cioè la prima prima cosa che mi viene in mente è che lo voglio che lo voglia nascondere proviamo a dire questo con l'oratoria vi imploro di ripensarci questo verrà ricordato è stato colto in flagrante delitto ricoperto di sangue con un coltello tra le mani ah ok perché crede che sia stato lui in flagrante delitto niente ecco là in flagrante di reato ossia quando un individuo viene colto nell'atto di commettere un crimine davvero sai che non lo sapevo perché è il primo che l'ha trovato ok quindi a parte quello anche questa cosa verrà ricordata chissà se poi cioè ormai siamo sulla strada di farci tutti i nemici praticamente credete davvero che fratello Piero possa essere capace di un'azione così civile capace a sufficienza se spinto dalla rabbia io gli direi ladri sono quelli che pensano che gli altri sono ladri cioè nel senso che il suo animo cattivo gli fa dire queste cose perché lui lo farebbe probabilmente anche se magari non lo sa non provavo non provavo alcun sentimento di rabbia nei confronti del barone padre abate ah sì perché poi c'è quel discorso là che lui stava facendo il libro per il barone no ma a parte quello voglio dire da qui ad amazzarlo poi per quale ma per quale motivo l'ho semplicemente trovato in queste condizioni tra parentesi sembra stato anche schiacciato non so non so perché ma è più facile che ci devono coltellare noi che il barone tra un po' però è vero che è vero che è venuta quella discussione a tavola in cui lui ha iniziato a tirare fuori Martin Lutero e quindi magari troviamo qualche ultraconservatore che ha detto fammi 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 prendere allora non provavi rabbia nei suoi confronti nemmeno dopo aver insultato il tuo lavoro e averci costretto da fidarlo ad Andreas ma che gliene frega anzi è una liberazione non è un argomento di discussione non possiamo farci trovare a mani vuote all'arrivo del delegato del principe vescovo mani vuote ah ok quindi ha proprio intenzione di accusare lui allora cioè metterlo sotto chiave ma per accusarlo non per nasconderlo anche se Piero avesse voluto uccidere il barone le sue condizioni fisiche non glielo avrebbero consentito si parentesi la progesto lì a dire ok pugnalami e lui toc toc ucciso in effetti non era arrabbiato chiunque fosse presente nello scriptorio sa che è così persino Guy che però io non chiederei a lui perché avrebbe la faccia di dire il contrario andiamo sulla sulla cosa tra l'altro ti ricordo che c'era il retroterra logico no c'era quello non logico ma che comunque favoriva ragionamenti logici e più nemmeno questo è un ragionamento logico razionale comunque proviamo di questo ah e qua ci viene utile invece il retroterra in medicina vedi vedete la sua mano sono stato avanzato in paralisi riesce a stento a impugnare un coltello o a figurarsi usarlo per uccidere se ho voluto un parere medico avrei chiesto a fratello Florian o al rispettabile dottor Stoltz simpaticissimo proprio ma non l'ho richiesto e questa storia non ti riguarda basta già liquidato la discussione in modo vigliacco tra l'altro mi riguarda il momento in cui mi includete nelle presunte motivazioni di fratello Piero che ci ha tirato in ballo anche noi perdonate il padre Garnot trovo davvero implausibile che possa essere stato fratello Piero ma credo che non gliene frega niente quindi proviamo a rispondere a questo questo varrà ricordato quindi ci odia ancora di più non intendo discutere oltre con te ci tratta proprio come pezzo da piedi la mia decisione è presa fratello Vojslav Vojslav boh rinchiuderà fratello Piero in cantina fino a mio ordine contrario fratello Florian per favore accompagna Andreas fuori dall'abazia Andrea se non voglio vederti qui fino a domani mi hai capito bene perché se no cosa fai sentiamo cos'è che fai vuoi fare la botta cosa che fai stiamo zitti stavolta lascia giù quel coltello gli stiamo mostrando anche la schiena non è che allora Andreas ascoltami capisco la tua posizione nemmeno io credo che il colpevole sia Piero ma questo non è il momento di far infuriare l'abate quello è sempre infuriato minacce pesanti non certo che anche gli altri fratelli e sorelle ritengono Piero innocente ma l'abate è molto preoccupato per ciò che farà il principe vesco vabbè se avete consigli mi piacerebbe ascoltarli devo fare qualcosa non posso lasciare che Piero muoia per un delitto che non ha compiuto questo è quello che farei sicuramente io questo alla fine mi sembra non simili come domande o prima essere più diretti le tue intenzioni sono lodevoli ma se non agisci con cautela potresti finire per peggiorare le cose va bene chi ti dice che non siamo capaci di agire con cautela mua non sono capace di agire concedetevi qualche ora per placare i nervi e la mente avete bisogno di pensare chiaramente date dai dracker gustate un buon pasto è tornata la nona non avevo molto tempo mi ho gustato la mia finestra con una pietruzza e vi farò entrare e qual è la sua finestra questo infermeria non so a quale scopo per esaminare il cadavere autopsia esaminiamo il cadavere cosa c'è di meglio nella vita vabbè dopo che l'abbiamo esaminato ora sesta dobbiamo seguire il consiglio e andare dai dracker mi piace perché è passato tempo mentre noi eravamo qua sembra che noi siamo stati qua due ore in piedi come dei baccalà spero che mi schiarisca le idee direi di andarci direttamente vediamo se vediamo di nuovo il fantasma Diego la sopra vedi l'acquedotto romano a un certo punto abbiamo visto una figura che sembrava tipo un fantasma o comunque oppure una suora non so perché sembrava che avesse una gonna che correva da destra verso sinistra e ha saltato lì dove è rotto e boh sembrava un fantasma per certi versi lui ha qualcosa da aggiungere no salve andiamo direttamente qua invece la suora che c'era qui dentro la indemoniata questo parla in una lingua che non che non capiamo ok però l'abbiamo tradotta buona giornata Andreas è già di ritorno dell'abbazia è solo mezzogiorno eh abbiamo fatto il chiatto tantissimo stamattina abbiamo lavorato lavorato le mani non le sento più il collo non lo sento più ah foresteria dici abbiamo fatto i jumping jacks i jumping jacks lì per due ore è passato il tempo Andrea stai bene adesso qualcosa di terribile non ne sono sicuro sto bene non preoccuparti mi amo tutti giusto per fare incazzare l'abate no perché se perché se spifferiamo vuol dire attirare attenzione no che in teoria l'abate non vuole non ne sono sicuro cosa vuole cosa dice beh perché non entri ti sei un minuto sono troppo ma è questa la casa se non sono troppo invadente vorrei riposare un po' qui è stata una giornata difficile mi farà bene distrarmi un po' vabbè ho proprio quel che fa al caso tuo allora vorrei sapere che ne pensi al mio ultimo progetto progetto per far che cosa marì buongiorno Andrea se ti preparo un piatto solo il piatto o c'entrano anche qualcosa non è troppo disturbo lo apprezzerei sono sempre felice di gustare i tuoi mani in caretti marì no grazie non ho molto appetito in questo momento ma chi vai sono sempre felice di maniare oh cielo Klaus devi invitare Andrea più spesso così potrò finalmente sentire apprezzamenti sulla mia cucina no ma guarda che erano in circostanza cioè non erano veri eh ma la tua cucina è deliziosa tesoro Bertoldo guarda qua Bertoldo salve ciao Bertoldo come stai? sonno a quest'ora sonno troppi zuccheri troppi zuccheri basta mangiare zuccheri vieni nella mia bottega ok andiamo a vedere questo progetto mentre ci prepara la sua bottega vieni nella mia bottega un metro avanti un metro più avanti è bello perché ho intenzione di stampare una nuova edizione di vediamo che cos'è personaggio che ah quello ok quello là che era burlone no? una specie di smaschera di continuo i vizi e l'ipocrisia altrui ma è anche piuttosto abile a indurre le persone ad annusare a toccare e mangiare i suoi scritti cioè è partito bene no? di smaschera di continuo i vizi e l'ipocrisia altrui però poi la parte finale un po' discutibile è uscita una stampa qualche anno fa a Strasburgo ma era orribile quasi del tutto priva di illustrazioni ho capito ecco la tua stampa riesci a farla? è stato tutto smarrito eh sì infatti potevano anche non dirlo cosa ne pensi di questa? sono nuove? sono splendide lavoro eccellente le figure e la composizione sono fantastiche ma lo sfondo è piuttosto denso e caotico ma no boh siete d'accordo io no denso e caotico cioè più di tutte le linee di cui hai fatto il personaggio in primo piano secondo me no secondo me è abbastanza bilanciato altro le linee come dire un po' verticale oblique sono compensate dalla linea le linee orizzontali su in cima no dai lavoro eccellente grazie quella stampa qua avviene xilografia avviene non so l'avete fatto l'avete fatto anche voi forse a scuola no? io perlomeno non l'ho fatta ancora quindi una specie era un non so cos'era era una specie di cosa di gomma verde che che la intagliavi la scavavi con una specie di scalpellino che poi lì dentro in questi canalini ci passa ci metti l'inchiostro oggi il foglio ed esce fuori il disegno no? no anche anche perché mi domandavo dice ma che stampa vuoi fare con quei cosi eh una stampa in bianco nero in quel modo lì semplicemente con incisioni praticamente è stata brava scusa diciamo così allora una tavola di berserk è un po' più caotico berserk in effetti come tavole si infatti blasfemia blasfemia Matteo dice siamo nel 500 e una donna ha fatto questo oddio è un reato secondo me dovrebbe metterla al rogo direttamente anche perché c'è tutta una discussione appunto mi ricordo sul fatto che nell'arte le donne erano difficili cioè lo dovevano fare davvero di nascosto a fare le pittrici eccetera per lungo tempo non sono nel medioevo qualcosa che ci deve mangiare benedici noi oh signore questi tuoi doni che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità Cristo nostro signore amen 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 che faccia da furbo che c'ha Bertoldo ho fame eh magna amen non mi piaci di più amen che bambino ok classico mentre mangiamo prosegue Andreas cosa annunciavano le campane alla bazia hanno suonato a lungo il nobile in visita Lorenz Rothvogel è stato trovato ucciso nella sala capitolare Dio santo lo senti Dio santo era arrivato solo ieri sì e c'è di peggio uno dei fratelli anziani con cui lavoro nello scriptorium Piero è stato accusato del crimine è terribile un omicidio a Kersau com'è possibile che un monaco faccia una cosa del genere appunto perlomeno non è stato Piero poi vedremo mi spiace Andreas il barone sembrava un uomo interessante so che è stato un mecenato della bazia per anni come è morto potrebbe essersi trattato di un incidente è caduto sul pugnale il classico no è caduto sul pugnale è come negli ultimi due o tre anni che sono morti tutti per suicidi stranissimi tipo non so impiccato al calorifero no che è una cosa e l'abate crede davvero che sia stato fratello Piero ucciderlo hai sempre parlato molto bene di lui sembra che Loren sia stato pugnalato ma non lo so per certo c'era molto sangue intorno al corpo c'era molto sangue ma preferirei non fare ipotesi sull'accaduto preferirei risparmiarvi i dettagli ma è difficile credere che quello che gli è successo sia stato accidentale allora c'è un bambino a tavolo quindi c'era molto sangue intorno al corpo ma no non posso credere che Piero abbia fatto una cosa simile non farebbe del male una mosca coltellato mi è difficile immaginare un monaco che fa una cosa simile ma chi può dirlo sul bambino ma cosa ha detto c'era sangue ma chi può dirlo e vabbè e se fosse stata una delle suore aaa ok le suore si il monaco no le suore le potevano ma non è tutti intorti testa mozzata da una scala giuro che l'avevo sentito Massima forse uno deve essere anche morto tipo sparandosi in testa con uno o due proiettili e una roba con due proiettili tipo no che non ce la fai a piazzare il secondo ma se non è stato un fratello pieno che pensi possa essere colpevole non ce la fai non ce la fai non ce la fai